Il 150esimo anniversario dell'inaugurazione del canale di Suez ci mostra quanto sia importante questa opera non solo per l'Egitto e l'Italia ma per tutto il mondo perché ha favorito la navigazione ed ha unito per così dire anche diverse parti del continente. Inizialmente si dava tributo a Ferdinand de Lesseps per quest'opera però poi si è capito che non erano solo i francesi da ringraziare per questo importante canale. Inizialmente con Napoleone appunto c'era stata l'idea di connettere il Mediterraneo al Mar Rosso però si pensava rionamente che ci fosse un dislivello tra i mari e sono stati proprio gli italiani, è stato proprio Negrelli a capire che invece questo dislivello non c'era. E appunto è stato proprio grazie all'idea di Negrelli che sosteneva che non ci fosse questo dislivello tra i mari, tra nessun mare, a dare l'input per la costruzione del canale.